A me mi piace tanto fare questo balletto, tu prendi una persona e mi e te li rimbetti, però mi raccomando di non fare l'accusi, invece che in questo bagno stiamo a trovare il corso, se siamo tutti pronti per fare questa gara, nei giorni a chi si fiamme, oggi no c'è settimana, oggi si tirano i piedi e guadagno, ci vediamo chi, vedrai che questo bagno in modo giusto girarà. Dopo la cena povertà e nobiltà che aveva messo insieme trippa, lampredotto e champagne, la 42esima festa dell'uva, del vino e dell'olio di Cigiano entra nel vivo con le tante iniziative e l'apertura del ristorante e della pizzeria con le donne di Cigiano e i tanti volontari a servire le prelibatezze del territorio. La ventata di freschezza ce la regala il gruppo folkloristico di Cigiano con l'esibizione dei più piccoli, il bene più prezioso del paese. La festa continua fino a domenica prossima con lo stand dell'accoglienza per assaggiare le ciacce con l'uva, il buon vino e i dolci tipici toscani e tra una camminata, una serata danzante e la sfilata dei trattori d'epoca della collezione di Mario Lorenzini ci sarà spazio anche per la solidarietà con il mercatino del calcit e per lo shopping tra le bancarelle del miglior artigianato tussiano. Cigiano! 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 Cigiano!